Buongiorno a tutti. Chiama Katrin B至o, partecina di un appartamento in qualità. E quindi, orattendo da doveppur nos fanno che noi vi mettermo, ad una strada Gran B至o, e qui siano scelte d'ora. Pronto, non è Simone che viene molto pe l'unico neurologo e spiega i profondi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.